E' scattato il conto alla rovescia per il debutto della tramvia della Valle Seriana nel tratto Bergamo-Albino, la cui cerimonia d'inaugurazione in programma il prossimo 24 aprile. Tebb comunica che a partire dal prossimo lunedì 20 aprile dalle 6 la linea elettrica della tratta al Zano Lombardo, via Pesenti con Albino, Capolinea sarà messa in tensione. La tratta in oggetto sarà percorsa oltre che dai mezzi di cantiere e anche da veicoli tramviari in fase di rodaggio. Tebb ricorda inoltre che gli incroci tra la tramvia e le strade interessate saranno presidiati da moveri dotati di apposita paletta e giubbetto ad alta visibilità e che nei medesimi incroci deve essere considerata vigente la regolamentazione del codice della strada.